Io sono figlio della chiesa copta ortodossa d'Egitto, sono venuto qui alla fiera di Rimini, abito qui a Rimini e sono molto molto felice di aver visto questa fiera perché effettivamente qua in Italia non conosco molta gente che fa parte di questo tipo di cristianesimo magari a Milano però oppure a Roma, ma a Rimini non ho mai visto diciamo gente che sia molto parte di questo tipo di cristianesimo sono venuto qua a questa fiera dove hanno fatto vedere il cammino di Gesù e della Santa Famiglia per l'Egitto e poi ritornando appunto ad Israele a Nazareth sono stato molto felice perché per la prima volta diciamo ho visto che ne so, ho visto diciamo la mia cultura essere propagata alla gente che comunque magari non lo sa infatti di solito io quando ne parlo a scuola con i miei amici oppure quando esco fuori la gente dice come? ma in Egitto c'è il cristianesimo, io dico è certo che c'è il cristianesimo, è una piccola parte, magari il 20% però c'è ed è molto anche presente ed è molto credente infatti una delle dimostrazioni è proprio questa rappresentazione della fuga d'Egitto dietro di me è appunto dei cristiani dove tutti i cristiani fanno vedere la loro fede attraverso le varie tappe che sono state appunto cristianizzate ma ci vanno anche molti musulmani perché comunque è un qualcosa di comune che riguarda la religione generale della cristianità e la religione che crede appunto in Gesù Cristo e quindi sono stato molto felice di aver visto questa fiera e non vedo l'ora magari del prossimo anno di poter venire di nuovo a vedere altre cose belle sono rimasta molto colpita da questa mostra perché ho visto delle cose impressionanti e ho scoperto un mondo che non conoscevo la cosa pazzesca è il fatto di vedere queste due culture così diverse che il mondo ci fa percepire come quasi opposte dell'islam e del cristianesimo invece unite davanti al mistero perché poi questo è stato commovente allora innanzitutto sono molto emozionata da questa mostra ma soprattutto perché non pensavo fossero stati così tanto in Egitto un paese che per noi è qui vicino però è molto diverso da noi e quindi penso che abbiano potuto assaporare anche tutta la bellezza di questo paese oltre che a lasciare un'impronta che rimarrà nei secoli no mi ha colpito tantissimo perché è come visitare quei posti e poi perché ho visto veramente Maria presente il fatto che sia musulmani che cristiani insieme la venerano quindi veramente è una bellissima esperienza complimenti dunque la mostra mi ha colpito perché non conoscevo bene la storia conoscevamo la fuga in Egitto ma non tutto l'itinerario e le chiese soprattutto nate le tradizioni nate nel lungo il tragitto ipotetico comunque riconosciuto storicamente di questo viaggio della Sacra Famiglia Porto a casa è una cosa che non conoscevo di questo percorso bellissimo che si va in Egitto per vedere le piramidi o chissà che cosa è tutto incentrato su una politica veramente assurda invece è una cosa bellissima una storia incredibile che accomuna cristiani e musulmani e questa è una cosa bellissima allora io sono Maria io ho avuto la fortuna di presentare questa mostra mi è stato chiesto quando ho dato le disponibilità per lavorare al meeting e mi è stato chiesto di presentare questa mostra e devo ammettere che all'inizio quando mi sono avvicinata ai pannelli quindi a quello che avremmo raccontato ho fatto un po' fatica ho avvertito un certo distacco perché vedevo tutta questa tradizione che non conoscevo ma con cui facevo fatica a interagire e invece devo dire che andando avanti e presentandola e interagendo con le persone vedendo la reazione delle persone mi sono proprio accorta del miracolo che questa mostra porta cioè della rarità, della novità direi per il mondo che una storia come questa porta cioè dei luoghi dove in maniera anche per certi versi folcloristica ma dove c'è una fede viva che continua ancora ad oggi e questo è quello che a me ha colpito tantissimo e che è stato bello portare io conosco da vent'anni con la mia comunità di suore la comunità copta a Milano in piazzale Corvetto quindi ho portato con me tutto il desiderio di conoscere la storia dei coppi ortodossi che per me sono nomi concreti e mi sono commossa tantissimo perché ho rivissuto però insieme a loro anche se non sono tutti qui il fatto cristiano e l'amore alla Maria che ci unisce e penso che sia una grande prospettiva per tutto il mondo questa amicizia che io ho incrociato per caso aiutando dei ragazzini copti a studiare l'italiano d'impatto sicuramente la bellezza che il cristianesimo con la famiglia santa ha saputo generare dovunque è arrivato anche nei luoghi più impensabili in questo caso in Egitto con tutto quello che è nato di opere, comunità che questa mostra ci ha testimoniato, bellissimo mi ha colpito anzitutto la bellezza dell'Egitto e di queste bellissime chiese mi è venuta tantissima voglia di venire a visitare l'Egitto e di fare il pellegrinaggio ad Erdronka poi mi ha colpito la libertà religiosa che si può avere e di come testimoniate la vostra fede anche in una zona del mondo dove non c'è la maggioranza di cristiani e vi ringrazio molto